ciao a tutti sono lisa longovorghini e insieme ad alcune mie compagni della track sega freddo prenderò parte al giro d'italia virtual correremo virtualmente sette delle tappe più iconiche del giro d'italia 2020 e siete tutti invitati a prendere parte a questa bellissima challenge della quale troverete maggiori informazioni sul sito del giro d'italia la parte migliore di questa manifestazione di questo evento è che raccoglieremo dei fondi da poi donare alla croce rossa non potete mancare